Ancora una grande vittoria per il Tolmezzo che sbanca il campo di Rive Flaibano con un Leonardo Beltrame tra i pali, chiamato a sostituire Daryl Cristofoli, espulso nel primo tempo, finale 2-1 con un grande, grande Tolmezzo. Sì, è stata una bella partita, appena Daryl è stato espulso ho pensato subito che doveva entrare concentrato e ho fatto il mio e basta. Dopo un primo tempo in cui il Tolmezzo aveva dominato ma il risultato si era sbloccato, poi nella ripresa grazie ai gol di Gregoruti e di Motta, ecco una vittoria che certifica il primato in classifica, insomma questo Tolmezzo vuole continuare a stupire ancora.